Tanti auguri Yamaha R1 a questo EICMA 2018, questa iconica super sportiva compie 20 anni per festeggiare Yamaha schierato 3 moto alla 8 ore di Suzuka 8 ore di Suzuka che è stata appunto vinta da questa Yamaha in particolare, questa speciale livrea che riprende il primo modello di R1 uscito pensate nel 1998 Nasce così una serie ultra limitata e denominata R1 GYTR che sta per Genuine Yamaha Technology Racing Sulla moto sono infatti montati una serie di accessori, lo vediamo, della linea Genuine Yamaha Technology Racing Tra cui troviamo l'amortizzatore posteriore TTX36, un amortizzatore di sterzo ovviamente regolabile, uno scarico in titanio Akrapovic della linea Evolution 2 e le protezioni del motore Jill Stooling E tutta una serie di accessori che derivano direttamente dal reparto corse di Yamaha Aspettiamo di vederla in pista e vi do appuntamento al prossimo video sempre con Oram e Always Riding, ciao! Ciao!